Stay Brave, episodio 5, Flagship Store. Questa l'ho fatta a carica, eh. Flagship Store, vi racconto da zero ad oggi tutti i negozi che abbiamo creato. Prima cosa, perché abbiamo deciso di avere un punto vendita? Perché abbiamo deciso di avere un monomarca? Perché abbiamo deciso di avere una casa del brand? Perché quando siamo partiti e obiettivamente non ci conosceva nessuno, il primo bellissimo modo per far conoscere i nostri prodotti, per conoscere le persone che potevano essere interessate al nostro prodotto, per poter ricevere critiche, apprezzamenti e qualsiasi tipo di feedback, non c'era nessun altro modo migliore che avere un punto vendita, perché ci permetteva immediatamente di testare il nostro prodotto su strada e immediatamente di poter far sì che il nostro prodotto arrivasse istantaneamente alle persone. Fatto sta che quindi nel lontano 2013, pochi mesi dopo aver aperto la società, l'azienda ufficialmente l'abbiamo aperta il 16 luglio 2013, ma pochi mesi dopo, era il novembre del 2013, abbiamo avuto l'opportunità di aprire un Temporary Store. Non era forse nella zona che più desideravamo, e dopo vi dirò qual è la nostra zona preferita in assoluto, ma era comunque una grande opportunità. Si parlava di un negozio di circa 100 metri quadri, quindi non piccolissimo, in via Pontano. Via Pontano non è una via dello shopping, ma in realtà è una via super trafficata ed è ad angolo con via Brera, quindi comunque in una zona dove gli studenti ce ne sono parecchi, la zona comunque è figa, perché sei in Brera, non è che eravamo in delle zone dove proprio non passava nessuno, e quindi prendiamo al volo questa opportunità. Si libera questo negozio in via Pontano e ci dicono, guarda, per due mesi puoi mettere all'interno quello che vuoi, potete fare all'interno quello che volete. Bene, facile. Nel senso, noi non avevamo un euro da spendere, non avevamo un euro da spendere e soprattutto non avevamo neanche il personale per questo negozio, e quindi decidiamo di costruire questo negozio interamente con le nostre forze e chi ci lavorava in questo negozio, ovviamente noi. Quindi quel negozio lì, oltre ad essere un negozio, era anche il nostro ufficio, è stato il nostro ufficio per due mesi. Vi voglio subito far vedere, perché ci sarà un pochino anche da ridere, quello che era questo negozio. Perché ovviamente poi, come di nostra abitudine, poi vedrete negli anni, ma ci è sempre piaciuto poi fare gli eventi di inaugurazione, gli eventi dove invitiamo tutti i nostri amici, conoscenti, parenti, chi più ne ha più ne metta e gli facciamo vedere quello che sono le nostre collezioni. Io voglio andare sulla home, come si fa? Minchia, Facebook, sono boomer di Facebook. Ah ok, foto, perfetto. Album, ok, vado indietro nel tempo. Intanto vabbè, ci sono delle cose incredibili, anche qui se volete vedere delle cose incredibili andate negli album di Facebook, perché vi possono regalare delle emozioni pazzesche. Questo, signore e signori, era il nostro primo negozio. Allora, come sapete, ma poi magari farò un episodio proprio serrato, su tutto ciò che riguarda il nostro primo prodotto, che era il cappellino, ma questo era il modo in cui abbiamo arredato un negozio in Brera. Cioè, non nel peggiore quartiere di Buenos Aires, ma questo era in Brera, utilizzando delle cassette della frutta dipinte, utilizzando delle gomme di macchine, mettendo sopra del legno a fare, diciamo, delle mensole. Questi erano dei prodotti, qui potete vedere questo tappeto rubato, penso, in qualche cantina o da qualche parte, quadri storti, una ghirlanda di Natale. Veramente, penso, imbarazzante. Attenzione, l'altra volta non la trovavo. Ho la maglietta con la panchina. Questa è la nostra prima maglia. Clamoroso, qui ce l'avevamo, bellissima. Qui potete vedere... Chi è questo? L'azzino, ragazzi. Questo è l'azzino, l'azzino nel lontano 2013. Qui c'era l'azzino e sciade. Il buon Nerone, sempre con noi dall'inizio. Jaime. Questo qui era il negozio visto da fuori, con una pecora qua, tipo quel pecora di polistirolo come insegna, con il logo, neanche un insegna ce l'avevamo. Pazzesco. Primo negozio via Pontano nel 2013. Fatto sta che, per quanto orripilante, per quanto imbarazzante ad oggi rivederlo, a noi ci piaceva. Da un sogno nato su una panchina, avevamo effettivamente aperto il nostro primo negozietto a Milano. Potevamo ufficialmente dire a tutte le persone che stavano credendo in noi che eravamo anche riusciti a fare questa cosa. Quello che ci piaceva era il fatto di poter avere un posto dove vendere le nostre cose, dove far conoscere il nostro marchio, dove incontrare tante persone nuove. Quel negozio, che obiettivamente non era un granché, ma non era neanche in una grande zona, faceva anche delle discrete vendite. Quindi ci ha fatto iniziare a innamorare dell'idea di avere una casa del brand. Avere una casa del brand che, dopo questo grandissimo esperimento in Via Pontano, siamo riusciti ad aprire nella via dove sognavamo. Nella via dove dai 15 ai 18 anni probabilmente abbiamo passato tutti i weekend. si tratta di Corso Ticinese, Corso di Porta Ticinese. Perché era la nostra via dei sogni? Perché da quando veramente avevamo 15 anni, passavamo lì il sabato sera, il venerdì sera si andava lì. Quella era però la via dove noi, tra una cazzata e l'altra, appunto sognavamo un giorno di avere un negozio. Quindi, una volta che abbiamo fatto l'esperimento di Via Pontano, ed è stato comunque un successo, abbiamo detto, proviamoci, proviamo ad aprire in Corso di Porta Ticinese. Ed ecco che, a metà della via, c'era questo spazio libero, Temporary Store, l'affitto costava parecchio, perché costava 4.000 euro al mese ai tempi. Quindi, nell'estate 2014, apriamo il nostro primo Temporary Store in Corso di Porta Ticinese. E ora vi faccio vedere com'era nella sua prima fattura. Anche qui sempre, ovviamente il nostro prodotto focus dei primi anni era il cappellino, e quindi lo rivedrete tante volte. Una delle cose più belle che facevamo con il cappellino era poi darlo in mano a degli artisti che potevano renderli unici, creando delle cose pazzesche. Questo è un writer, si chiama Ranci. Facevamo firmare il muro, uno dei muri lo facevamo firmare da tutti gli amici che venivano a trovarci. Questo era il muro con le cover, perché avevamo fatto una partnership con un cover store che ci dava un sacco di cover e noi le esaltavamo con le nostre grafiche. Questo è Ali, il nostro amministratore delegato. Potete vedere la serietà di quest'uomo. non chiedi qui dell'altro socio, Giulio e il direttore artistico. Per quanto riguarda l'arredo, come potete vedere abbiamo risfruttato quello che erano le cassette della frutta, ma per la prima volta c'è un'insegna. La prima insegna, forse ce l'abbiamo ancora in magazzino, ma la prima insegna è uno dei primi loghi del nostro brand. Qui potete vedere il negozio come era costruito. Non era niente male, nel senso che avevamo messo sul muro bianco queste mensole dove c'erano tutti i cappellini, sotto c'erano le magliette, in una rella, e sopra gli skate. Questo skate ce l'ho qui. Nel lontano 2014, ancora qui nel nostro ufficio che è pieno di reperti archeologici del nostro brand. Questo era il secondo negozio e siamo stati qui da giugno a... forse da... sì, da giugno e luglio 2014. Quindi quello era il nostro secondo negozietto. Terzo negozietto, cosa succede? Volevamo rinnovare quel Temporary Store perché le cose stavano andando piuttosto bene, però purtroppo, essendo un Temporary Store, da Tembre fino alla fine dell'anno era stato già prenotato da un'altra realtà, quindi non potevamo affittarlo. Abbiamo cercato sempre il corso di portati cinese e abbiamo trovato un posto che è una bomba e secondo me un po' un mezzo pentimento di non averlo preso per sempre ce l'abbiamo. Praticamente era un ex bar ad angolo più o meno tra corso di portati cinese e via dei amici. Era molto molto bello perché aveva tutto questo soffitto in legno, poi aveva anche un piano sopra. Eccolo qui, sì. Allora, questo qui era il soffitto di cui vi parlavo, negozio bellissimo. Questo muro con mattoni a vista era particolarmente bello, mi piaceva un sacco, me lo ricordo veramente come una bella chicca all'interno del negozio. L'insegna l'avevamo messa all'interno qua. Questo che vedete sulla sinistra è Mira, Writer gigante, ma quello sulla destra, ragazzi, per chi conosce la street art, non la street art, per chi conosce il writing, lui è Lugosi. Lugosi è un artista che ad oggi ha fatto collab con Nike, con Carart, con aziende giganti, vive a Berlino insieme a suo fratello e fa delle cose clamorose, è un tatuatore incredibile e un writer incredibile. Qui era nel nostro negozietto a disegnare e poi il futuro gli ha regalato sicuramente delle hit clamorose. Qui c'era uno dei miei cappellini preferiti, lo scimmione, lo chiamavamo lo scimmione, con questi orecchioni, qui c'era il super Jacopino Lazza, ma quello che ci tenevo a farvi vedere, special guest di quel evento, lo riconosci lui? Shiva ragazzi, questa è Shiva nell'8 dicembre 2014, faccia pulitissima, un talento incredibile, ho postato sul nostro TikTok qualche giorno fa un freestyle che aveva fatto nel lontano 2014-2015, era fortissimo già i tempi, noi lo seguivamo, la cui avevamo conosciuto Grazia Nerone, che l'aveva un po' preso sotto la sua ala, spaccava già tantissimo e si era un pochino perso per strada a Roma, quando è tornata a Milano poi ha fatto sfracelli, quindi bella Shiva, lo dovrebbe che era anche breve, quindi vediamo, vediamo un po' che cosa succede. Un negozio bellissimo che purtroppo anche lì ce lo siamo fatti a un certo punto scappare perché era un tempo che non potevamo rimanere troppo a lungo e allora cosa abbiamo fatto? Siamo tornati in corso di Porto Ticinese numero 60. Questo era il negozietto però questa volta iniziando un minimo e si trattava di maggio 2016, comunque 2015-2016, avevamo iniziato a fare un arredo un pochino più carino, quindi avevamo messo il legno per terra, vedete tutto la carta da parati alle pareti, avevamo ricostruito una sorta di baita anche lì all'interno del negozio. Come al solito DJ720 di lancio, eccolo qua, Super DJ Slide, uno dei primi parti che abbiamo fatto insieme a lui. Questo era il negozio se volete giusto guardarlo un po', è molto bello secondo me, questo ci siamo particolarmente affezionati a questo tipo di layout. Questa era la folla fuori dal negozio. Questo è stato il nostro primo percorso all'interno di Corso di Porta Ticinese. Cosa succede? Eravamo ormai fino al 2017 in Corso di Porta Ticinese 60. Continuavamo a pagare l'affitto al Senza Dita finché a un certo punto le nostre collezioni iniziavano ad essere un po' troppo ingombranti. E fatto sta che cosa succede? Che di fronte a noi Corso di Porta Ticinese 83 c'era una gelateria che un giorno chiude e mette fuori il cartello posto libero vacante affittati. Grazie anche al buon Mure non ci pensiamo un attimo e andiamo a chiamare subito l'agenzia che ci fa una proposta molto impegnativa per il tempo dal 2017 e ci comunica che se volevamo quel negozio potevamo prenderlo c'era una buona entrata da pagare molto importante e soprattutto era una gelateria quindi non è che puoi vendere i prodotti abbinamente in una gelateria bisognava radere al solo la gelateria e costruire un negozio confrontiamo parliamo per settimane cosa facciamo prendiamo non lo prendiamo a un certo punto dice abbiamo deciso di fare gli imprenditori o si gioca o non si fa un cazzo abbiamo deciso di fare gli imprenditori o si rischia oppure è meglio cambiare mestiere quindi abbiamo preso le chiave di quel posto siamo entrati e abbiamo costruito quello che è il flagship store attuale in realtà non è quello attuale è quello che abbiamo costruito in quel momento lì ma abbiamo trasformato quella gelateria in un posto incredibile vi faccio vedere il video e ce lo guardiamo insieme che è un po' il vlog riassuntivo di tutti i lavori che ci sono stati in quel frangente per costruire il negozio eccolo qua si sentirà l'audio boh non so oggi un giorno importante per la nostra azienda domani formalizzeremo la proposta domani formalizzeremo la proposta al nuovo negozio di corso di porta ticinese 60 corso di porta ticinese 83 con il buon mure che ci ha seguito in tutti gli altri negozi inizia quindi l'avventura all'interno di quell'ennesimo negozio che era un macigno era qualcosa non era semplicemente un tempo era ufficialmente un negozio un negozio che da lì ai 12 anni successivi va a diventare la nostra casa e dovevamo farlo conoscere a tutti una delle cose che abbiamo sempre fatto è stata quella di fare eventi su eventi su eventi organizzare DJ set all'interno organizzare un sacco di party incontrare tanta gente invitare iniziare a fare degli appuntamenti di un certo tipo all'interno del negozio insomma un luogo che è diventato negli anni sempre più la nostra casa 5 vetrine corso di porta ticinese 83 un simbolo per chiunque diciamo ami questo settore e ami in generale la via bene cosa è successo ovviamente è arrivata la pandemia che cazzo ci dovevamo fare niente una delle cose più belle forse che abbiamo fatto in quel periodo è sicuramente cercare di non lasciare a casa i ragazzi del negozio ma di quasi trasformarlo ed è in quel momento che abbiamo lavorato anche con loro che si sono messi di incredibile impegno e dedizione c'è una zanzara sopra telecamera che vorrei sparare abbiamo iniziato ad attivare tutta una serie di cambiamenti all'interno del negozio che hanno fatto sì che un negozio che obiettivamente era soltanto di abbigliamento è stato poi trasformato in un punto anche di experience un punto dove le persone ad oggi possono arrivare sedersi versi una birretta versi un caffè guardare la televisione giocare alla play godersi delle live twitch partecipare a degli eventi insomma un negozio che è stato completamente veramente rivoluzionato e che ad oggi ci piace appunto chiamarlo una sorta di experience store quindi non soltanto un posto dove tu puoi comprare i nostri prodotti ma un posto dove tu puoi conoscere la nostra realtà e puoi quindi avere un rapporto anche con le persone che stanno lì che va oltre quello di un semplice rapporto tra commesso e clienti questo è stato il progettone che abbiamo portato avanti negli ultimi anni ed è in continuo cambiamento ci sono un sacco di idee fighissime per il prossimo anno legate al negozio una delle cose più belle in assoluto che abbiamo fatto secondo me in generale sono gli eventi ma anche gli eventi particolari abbiamo fatto lì i meeting della nostra community abbiamo fatto lì dei training dove facevamo venire quindi degli esperti di settore a dare delle lezioni di qualsiasi tipo insomma ne abbiamo fatte di ogni e chissà quante ce ne inventeremo non è stata l'unica esperienza di flagship ma perché una delle cose più strane e più pazze che mi è accaduta nella mia vita è sicuramente stata quella di camminare in un nostro negozio non a Milano non in Italia ma bensì in Giappone nel 2019 io ho fatto un viaggio incredibile insieme a quella che è attualmente mia moglie e camminare in un negozio nostro a 10.000 km di distanza è un'emozione che è veramente difficile da raccontare successe tutto per caso un ragazzo si innamorò del nostro brand andò a vivere in Giappone ma con l'obiettivo di portarsi dietro il brand di costruire qualcosa obiettivamente ce la fece e riuscì ad aprire un nostro monomarca nella mall sopra Shibuya sopra il più famoso incrocio del mondo dove centinaia di persone contemporaneamente attraversano vi c'è una mall super figa e al settimo piano di quella mall c'era il nostro monomarca ed era bellissimo qualcosa di indescrivibile per quanto pazzesco e quanto imprevedibile però una cosa sicuramente imparata in tutti questi anni e ve la racconterò probabilmente anche in tantissimi altri episodi che la parola impossibile è meglio cancellarsela dal vocabolario è meglio non credere che ci siano cose impossibili perché con il lavoro l'impegno batta di risolvere qualsiasi tipo di criticità anche le cose che sembrano più assurde possono accadere come ad esempio è stato per noi il flagship store in Giappone una cosa che ho imparato comunque è che anche se un certo tipo di zona costa tanto è meglio però essere in una zona comunque dove c'è un sacco di passaggio perché se paghi poco ma poi ti vedono in pochi alla fine non ne vale la pena quindi piuttosto è meglio fare un all-in in una zona in cui c'è c'è un sacco di gente e Corso Ticinese era molto interessante se Dio vuole tra qualche anno arriverà anche la metropolitana e vediamo un po' che cosa che cosa succederà se ancora di più si amplierà io ho un sogno ho un sogno I have a dream I have a dream of Corso Ticinese un grande sogno incredibile di Corso Ticinese che è quello di organizzare un mega evento dove in ogni negozio c'è un evento essendo Corso di Porto Ticinese un po' la via dell'urban la via dello street in generale ci siamo noi Carart Stiusi negozi di sneakers c'è Juter c'è Propaganda c'è Vans insomma è la via dove se ti piace questo genere di abbigliamento sicuramente non rimani scontento mi piacerebbe un giorno avere un evento unico dove in ogni negozio c'è un evento quindi c'è un DJ set da noi c'è uno da Juter c'è uno da Propaganda c'è uno da Stiusi c'è uno da Carart quindi so 20 eventi in 20 negozi ma la cosa figa è che vorrei organizzare che tu in ogni negozio recuperi dei gadget e così sei tanto incentivato anche a farti un giro in tutti i negozi quindi le persone non restano soltanto in un posto ma girano in continuazione a cercare di completare tutto questo kit di gadget mi piacerebbe prima o poi organizzarlo è un mio sogno prima o poi mi ci metterò seriamente quindi Grazie a tutti.